rispondo a questo commento c'è quella di martina franca che si riferisce alla strada più stretta d'italia dopo un video che ho pubblicato come potete leggere su questa targa la trasonna che si trova a candela in provincia di foggia e larga 38 centimetri ma da una ulteriore indagine metro alla mano che ho realizzato io con un mio amico e potete trovare il video su youtube nel canale francesco marano musicista addirittura risulta larga 36 centimetri quindi 36 centimetri per arrivare a 51 ce ne vuole quindi quella di martina franca non può essere certo la strada più stretta e quindi questo lo potete appunto verificare sul mio canale youtube come ho detto poco anzi francesco marano musicista poi ci sono altre località che spacciano la loro strada per 24 25 centimetri in realtà la misurazione non è stata fatta ad altezza uomo come vi faccio vedere adesso in questo video dove appunto ecco qua questa altezza qua ma è stata fatta addirittura ad un'altezza di più metri d'altezza adesso non so dirvi con precisione quanto dove che corrisponde con un lampione quindi dove non passano le persone ma dove c'è una scrittoria in altezza quindi quella misura ufficialmente non è valida questo è quanto se avete domande domande scusate o avete altre informazioni potete contattarmi tranquillamente ne discutiamo insieme